Iniziare il 2019 con il piede giusto e l'obiettivo di Cupello e Paterno che sfidano il freddo e scendono in campo per tre punti di notevole importanza. I padroni di casa devono iniziare a costruire tra le mura amiche la possibile salvezza. Gli ospiti intendono invertire il tabellino di marcia esterno. Che non è dei migliori? Fischia Paolo Di Carlo della sezione di Pescara. Primo tempo giocato a ritmi blandi con pochissime occasioni. Dodicesimo Zinni col sinistro chiama Di Girolamo al facile intervento. Lo emula dall'altra parte di Virgilio che sfida la fisica in semisforbiciata. Parte centrale avara di emozioni e dunque vi proiettiamo direttamente al 36esimo. Azione confusa in area Paterno, corre in pallo che favorisce Antenucci. Glaciale come la temperatura di oggi. 1-0 Cupello e gioia per l'esterno di Mr. Carlucci che oggi vara un solido 3-5-2. Festeggiano i padroni di casa che chiudono bene gli spazi agli avversari. Mercogliano a giro facile per Tascione. Te Caldo e ripresa che inizia con una palla goal clamorosa per il Cupello. Basso Pennella, Felice, spreca il tapin vincente ma andando a lato. Col passare dei minuti il Paterno cresce vistosamente e dal quarto d'ora potrebbe rimettere tutto in parità. Da calcio d'angolo Di Virgilio anticipa tutti ma centra il palo a Tascione battuto. Sulla respinta la sfera arriva a Cordischi che col sinistro dà solo l'illusione del goal. Palla fuori di pochissimo. Ancora ospiti con l'inzuccata di Mastroianni che non impatta bene. Resta a galla il Cupello ma nel recupero sembra rendersi al pari. Tascione però si erge a protagonista e nel face to face va a togliere il pallone dell'1 a 1 a Schiphol. E l'ultima emozione di giornata termina la sfida al comunale di Cupello. Tre punti d'oro per la squadra di Mister Carlucci che torna la vittoria e acquisisce morale per il proseguo del campionato. Il Paterno inizia il 2019 portandosi dietro quel mal di trasferta già noto ma con una prestazione specie nella ripresa di buon livello. Mister Carlucci la Befano oggi porta tre punti. Un 2019 iniziato nel migliore dei modi. Uno scontro importantissimo per voi. Sì, sì. Sapevamo dell'importanza della partita contro una buona squadra che è il Paterno. E oggi temevole punizioni laterali. Infatti al novantesimo c'è stata una grande parata di Tascione. Abbiamo rischiato in quella circostanza e a un palo. Noi abbiamo sofferto ma lo sapevamo. Abbiamo dato il massimo e ringrazio i ragazzi perché oggi era veramente difficile. Adesso più andiamo avanti e più le partite saranno sempre più difficili e equilibrate. Però i ragazzi per l'impegno di questi dieci giorni sotto neve e vento che si sono allenati e quindi hanno dato il massimo. Io sono contento per loro ma non abbiamo fatto niente. Da martedì prepariamo la partita prossima che è proprio a Pescara con l'acqua e sapone che anche questo è un altro scontro diretto. Un'ottima prestazione perché se andiamo a vedere il Cupello ha fatto il rimpallo del gol e poi un'azione su un calcio di punizione e poi non ha mai tirato in porta. Noi abbiamo avuto tre clamorose palle gol dove è stato bravissimo Tascione, dove abbiamo sbagliato, abbiamo preso un pallo col colpo d'este di Virgilio. L'altro colpo d'este di Mastroianni che si è alzato sopra la traversa che poteva fare meglio. La squadra ha cercato in tutte le maniere di fare la partita e di cercare di fare il risultato. Non ci siamo riusciti però, ripeto, se giochiamo sempre così non possiamo non fare il risultato. È un periodo che va così e se 100 non basta bisogna fare 101 per forza. Dobbiamo cambiare perché la squadra fa le buone prestazioni, creiamo tante perché anche oggi la partita non abbiamo sempre cercato di farla. Però il calcio è questo e dobbiamo prenderci questo e dobbiamo andare avanti.